Ci si gioca il primato a Pomigliano, si corre per le posizioni di vertice in almeno altre quattro sfide della sedicesima giornata di Serie D. Tutto merito dell'equilibrio che regna Sovrano nelle prime sette posizioni della classifica. Lo scettro del comando potrebbe passare di mano nella sfida diretta tra Pomigliano e Taranto, divise da un solo punto, ma puntano a conquistarlo Virtus Francavilla e Nardò, impegnate anche a superare quel momento di appannamento che le rende primatiste tossicchianti. Per la squadra di Nicola Ragno la trasferta a Manfredonia dirà se la lunga frenata dei Neretini, cinque pareggi nelle ultime gare, sarà terminata o se il periodo di appannamento deve allungarsi ulteriormente, tanto più di fronte ad una squadra, quella di Vadacca, che da due giornate non fa punti e ha bisogno di portare a casa un risultato buono per la classifica e la fiducia del gruppo. La Virtus Francavilla invece, all'appuntamento casalingo con la Turris, ci arriva da primatista con due sconfitte consecutive sul groppone e anche per questo quasi obbligata a scacciare i sintomi di una crisi prolungata. Ambisce a posizioni di vertice il Biceglie, che potrebbe far coincidere un risultato positivo domani pomeriggio contro l'Aprilia con l'ufficializzazione del passaggio societario e l'ingresso dell'imprenditore marchigiano Vincenzo Longo. Questione che tecnico e giocatori proveranno, come fanno da diverse settimane, a tenere fuori dal campo per i 90 minuti di partita. Proprio le vittorie hanno permesso di non farcemare l'interesse attorno al Biceglie, oltre che tenere il passo del gruppo delle migliori con la prospettiva dei play-off. Territorio nel quale sta cercando di rientrare il Sansevero, atteso dall'impegno sulla carta più semplice della domenica, affrontando in trasferta il Picerno. Lucani sempre più ultimi preceduti dal Serpentara. Sarà la squadra laziale a misurare lo stato di salute del rinato Gallipoli in un altro scontro diretto, ma questo per la salvezza.